ciao a tutti siamo in luglio e in luglio fa caldo e solitamente fa molto caldo dipende poi da dove abitate ma qua a piacenza per esempio fa decisamente caldo questo video quindi vi darò qualche consiglio per correre con il caldo perché il caldo purtroppo è uno dei principali nemici di chi corre potrebbe sembrare strano però le temperature ideali per andare a correre sono tra i 10 e i 15 gradi 18 però già sopra i 18 il caldo più aumenta la temperatura e più diminuisce le nostre prestazioni aumenta la fatica corriamo più piano insomma diventa tutto più difficile e quando fa veramente molto caldo si rischia anche ovviamente dei malori o cose del genere quindi qualche consiglio per evitare questi problemi il primo consiglio che vi posso dare ovviamente a cercare di evitare le ore più calde per cui cercare di andare a correre negli orari un po più freschi l'ideale è la mattina presto io ad esempio d'estate mi alzo alle 5 e mezza 6 del mattino vado a fare la mia corsa faccio la mia doccia e poi vado a lavorare ovviamente bisogna affrontare un'alzataccia però secondo me ne vale la pena in alternativa si può andare a correre la sera tardo pomeriggio la sera fa più caldo comunque che al mattino ma è sempre meglio che andare a correre nelle ore centrali della giornata ore che è sempre meglio evitare se possibile perché sono le ore dove le temperature sono più alte c'è il sole che picchia sulla testa e quindi sicuramente non è il massimo come abbigliamento evitare comunque di andare a correre tipo a torso nudo solo con costume in costume da bagno o robe del genere mettere sempre una magliettina una canottiera magari un capo tecnico traspirante colori chiari che fanno scaldare meno per quanto riguarda il sole se corriamo sotto il sole potrebbe essere utile mettere un capellino in testa per ripararsi un po io di solito non metto mai capellini ma di solito non corro mai con con il sole forte così lì è un po da valutare perché è vero che il capellino fa un po ombra però il capellino stesso scalda inoltre la testa è uno dei punti dove il nostro corpo disperde più il calore verso l'esterno quindi se ci mettiamo sul cappello blocchiamo un po questa funzionalità quindi è un po da valutare la cosa se corriamo sotto il sole sicuramente è da valutare anche la l'opportunità di proteggere la pelle con una crema solare perché magari non ci se ne rende conto perché si suda e così però se stiamo sotto il sole per mezz'ora un'ora così comunque il sole picchia e rischiamo delle scottature una cosa che sicuramente vi posso consigliare che è molto importante è l'idratazione perché ovviamente con il caldo si suda molto per cui è importante essere idratati non solo nel momento della corsa ma anche durante il giorno cercare di pensare all'idratazione del proprio corpo quindi bere sempre ogni tanto anche quando non si corre in modo che il nostro corpo sia sempre ben idratato nel momento della corsa magari bere qualcosina prima di correre un bicchiere d'acqua una mezz'ora prima qualche sorso d'acqua prima di uscire magari ovviamente non è che dobbiamo riempirci la pancia d'acqua perché non è consigliabile correre con la pancia piena d'acqua però qualcosina prima bere sicuramente bere sicuramente dopo la corsa per integrare magari se volete anche quelle bevande con sali minerali specifiche per lo sport se vivanno potrebbero servire in questi casi per integrare i sali persi se fate delle corse un po lunghette potrebbe servire bere anche durante la corsa quindi magari portarsi dietro una borraccetta con un po d'acqua e bere qualche sorsetto ogni tanto durante la corsa però parliamo di corse un po lunghe io di solito correndo al mattino facendo corse di solito non più lunghe di un'ora non ho mai sentito la necessità di avere dietro l'acqua però se fate corse lunghe oppure correte appunto in orari più caldi potrebbe servire avere dietro un po d'acqua sempre per un discorso di idratazione sarebbe da evitare di bere alcolici ma anche caffeina anche medicinali tipo gli antistaminici sono tutte cose che favoriscono la perdita di liquidi la disidratazione quindi se possibile sarebbe meglio evitare per chi ha i capelli quindi non è il mio caso potrebbe essere anche una buona idea bagnarsi bene la testa prima di correre in modo da mantenerla più fresca e l'ultima cosa che mi viene in mente di dirvi nella scelta del percorso da fare se avete la possibilità di scegliere se avete la possibilità di correre in luoghi tipo parchi boschi dove c'è appunto alberi o comunque una certa ombreggiatura sicuramente meglio privilegiare questo tipo di percorsi rispetto a quelli dove c'è tutto il percorso la maggior parte del percorso sotto al sole ok mi sembra di aver detto un po delle banalità come i telegiornali che tutti gli anni ci ricordano di bere molto mangiare frutta di non uscire nelle ore più calde ma mi sembrava comunque doveroso visto la stagione fare un video anche di questo tipo vi saluto ci si vede la prossima mettete un mi piace se l'avete comunque trovato interessante condividete il video lasciatemi eventualmente un commento qua sotto a me fa sempre piacere e ci si vede alla prossima